Attenzione a tutti i fan di spazio, è Martin Landau che vi parla. Il ventesimo secolo ormai è storia. Il 1999 è passato. Non v'è traccia di basi lunari, astronavi, né di ridicoli mostricciattoli di gomma. La luna è ancora al suo posto. Non posso credere che voi siate ancora attaccati a uno squallido telefilm inglese di trent'anni fa. Guardatevi, siete patetici. Io in questi anni sono andato avanti. Ho lavorato con registi del calibro di Francis Coppola, Woody Allen, Tim Burton. Ho vinto un Oscar io. È arrivato il momento che affrontiate la realtà. Al diavolo la base alfa. Le aquile. È finita. Fa tutto grazie a tutti. Grazie a tutti.